Giorgia Meloni si candida alla guida del centrodestra, sono fiduciosa che il centrodestra vinca le prossime elezioni politiche. Mi candido a guidare la coalizione, ma questo dipende dagli italiani. I rapporti tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni continuano a essere burrascosi. La presidente di FDI ha detto che per il momento non è in programma alcun incontro con Salvini e Berlusconi. Meloni dice solo di aver parlato al telefono con il Cavaliere due giorni fa, io non sento Salvini da prima che votasse Mattarella, ho sentito Berlusconi due giorni fa. Lui dice, stiamo uniti, ma per carità, solo che non si possono più scrivere accordi sulla sabbia, dice in un'intervista a 30 minuti al massimo, sul sito de' La Stampa. Meloni sottolinea che con Salvini non c'è un problema personale, ma si tratta di un problema politico. Hanno votato la legge elettorale con il PD, stanno al governo con loro, hanno votato Mattarella del PD. Mi chiedo allora, dov'è il centrodestra? Le distanze tra Meloni e Salvini sono aumentate soprattutto a causa del voto per il Quirinale, che ha visto la rielezione di Sergio Mattarella. Secondo Salvini la sua sarebbe stata una scelta obbligata, che lo ha costretto a guardare agli interessi dell'Italia, mettendo al secondo posto il suo partito. Non è scegliere l'Italia, è scegliere il governo, replica oggi la leader di Fratelli d'Italia. Secondo Meloni per il Colle la candidatura giusta sarebbe stata quella di Silvio Berlusconi. Aveva i suoi numeri e la sua forza. Per me poteva ricoprire tranquillamente quell'incarico. Tutti gli italiani devono qualcosa a Berlusconi. Io personalmente poi faccio delle scelte non perché gli debba qualcosa ma perché ci credo. Ho fatto il ministro in Quotan, ho fondato FDI e non ho chiesto niente a nessuno. Quando mi sono candidata a sindaco di Roma l'unica volta che poteva fare campagna a mio favore ha scelto Marchini. Non ho un tema di riconoscenza personale verso Berlusconi.